Nel 2021 feci un tutorial su come installare e avviare i videogames dal lancer dell'IP Games direttamente da un hard disk esterno o comunque da una SSD esterna. Questo tutorial era andato abbastanza bene, va ancora abbastanza bene, comunque è utile per tante persone che intendono non occupare troppo la memoria principale del proprio PC, che sia fisso o che sia portatile, con videogames e robe così, ma usare una memoria esterna, che sia un hard disk o che sia un SSD, appunto per queste robe, per questo tipo di file. Quindi non occupare la memoria principale, ma un'altra memoria. In questo tutorial un utente mi ha chiesto di fare un tutorial riguardo il suo problema. Nel momento in cui finisce l'installazione del videogames che vuole installare nella sua SSD esterna o comunque nel suo disco D, tutti i file all'interno delle cartelle si danneggiano e automaticamente e nuovamente viene eseguita l'installazione di tutto quanto. Quindi, riscontrate dei problemi con file danneggiati o corrotti, siete venuti nel tutorial giusto. Salve a tutti e oggi siamo con un altro tutorial. Parliamo di, come già detto, file corrotti, di file che si danneggiano nelle memorie esterne. Ma in realtà, se per questo riguarda qualsiasi file che si danneggia, allora noi vogliamo cercare il problema e magari risolverlo. Apro una parentesi. Il disco D che quest'utente ha citato nel proprio commento è uno dei dischi di memoria aggiuntivi al computer fisso che si trova insieme alla memoria principale. Quindi c'è la memoria principale, ovvero Windows C. Questa è la memoria principale di Windows. Ma nei computer fissi potrebbe essere possibile la presenza al disco aggiuntivo. Quindi nel caso non vogliamo riempire o comunque usufruire solo della memoria principale, possiamo servirci di questa memoria aggiuntiva. Ovviamente parlo di Windows, ma la stessa cosa vale per Mac. Nel caso, appunto, avete un Mac o Ubuntu, dovrete vedere il tutorial di un altro utente perché io non ho a disposizione questi computer. Non ho a disposizione un Mac o un computer con un sistema operativo Ubuntu. Ho a disposizione un computer portatile con un sistema operativo Windows e quindi farò questo tutorial per quanto riguarda Windows. Comunque, sistema operativo Windows. Nei computer fissi è possibile trovare o comunque è possibile aggiungere questa memoria di archiviazione esterna, un ulteriore SSD esterno, ma nei computer portatili no. Ovviamente perché sono dei computer più compatti, quindi lo spazio è più ristretto e più compatto ed è difficile aggiungere al suo interno un hard disk, comunque un SSD esterno, come si può fare invece con un PC fisso. Non la toglie comunque che con un computer portatile si possono usare delle penne USB o delle SSD esterne o degli hard disk esterni. Come nel mio caso, uso questo hard disk. Questo è un C.A.G.A.T. Tra l'altro è lo stesso che usai nel tutorial su come installare videogames in un hard disk esterno. Particolari a parte, colleghiamo il nostro hard disk. Iniziamo il tutorial. Ciò che useremo per provare e magari risolvere determinati problemi che possono presentarsi, useremo un tool presente fin dai tempi di Windows 8. Questo tool serve per correggere degli errori che potrebbero presentarsi o che magari non sono visibili al 100%. Windows comunque si è molto evoluto ovviamente da versione a versione. Quindi cosa va a Windows? Si rileva dei problemi in una memoria che sia una penna USB oppure un hard disk o una SSD. Presenta un pop-up in basso a destra che avvisa l'utente che il disco che si è collegato presenta dei problemi e che potremmo risolvere. Ci sono dei problemi che potrebbero non essere visibili come ho detto al 100% ma possiamo trovarli e risolverli. In che modo? Usando questo tool. andando su questo PC su risorse del computer oppure dalla barra delle applicazioni Esplora File andiamo sempre su questo PC e qui abbiamo tutti i nostri dischi quindi il nostro disco principale C e poi tutti i dischi che possiamo collegare. Se abbiamo collegato un hard disk come ho fatto io esce l'hard disk a meno che non ci siano di problemi con il collegamento dell'hard disk che magari non funziona ma vabbè quello è un altro problema. Apriamo le proprietà del disk che stiamo visualizzando andiamo su strumenti nella sezione strumenti e qui si presentano ben due funzioni. Il controllo errori e l'ottimizzazione defermentazione unità. Ciò che serve a noi in questo caso è il controllo errori. Quest'opzione consente di individuare errori del file system nell'unità quindi nel nostro hard disk. Clicchiamo su controlla e qui avviamo l'analisi dell'unità. È possibile continuare a utilizzare l'unità durante l'analisi. Se vengono rilevati errori sarà possibile decidere se correggerli. Stessa cosa come vi ho detto che può presentarsi sotto forma di pop-up in basso a destra della schermata del nostro pc. Avviamo l'analisi dell'unità. Il tempo delle analisi dipende molto dalla velocità del vostro disco dalla memoria di archiviazione e anche ovviamente dal numero di file che è presente nel nostro hard disk o comunque nel nostro disco. l'analisi dell'unità è stata completata è giunta al termine e mi dice che non sono stati rilevati errori. Nel caso in cui si presentano degli errori fate ciò che vi dice che vi consiglia il computer e risolvete questi errori. Perché come è accaduto per l'utente che mi ha scritto nei commenti la richiesta di fare un tutorial apposta su questo genere di problemi che può riguardare purtroppo file danneggiati o corrotti se non si risolvono potrebbero magari peggiorare questi errori e quindi intaccare nei file e danneggiarli. Perciò risolvete seguendo i passaggi che vi consiglia Windows che vi consiglia il computer e avrete risolto tutti i vostri problemi. se preferite poi un controllo maggiore e un po' più dettagliato ma allo stesso tempo personalizzato dei vari errori che potrebbero essere presenti sul vostro computer potete usare l'utility check disk esegibile dal prompt di comandi tastando su win sul tasto start prompt dei comandi tasto destro esegui come amministratore vuoi consentire a quest'app di apportare modifiche al dispositivo facciamo sì ed ecco che si apre la finestra del prompt dei comandi il controllo è personalizzabile perché lo si fa con dei comandi con delle variazioni con delle variabili quindi basterà scrivere l'abbreviazione i check disk ovvero chk dsk aggiungiamo il disco dove vogliamo fare questo controllo quindi il nome del disco che vogliamo controllare io in questo caso vabbè metterò semplicemente il disco principale quindi c due punti slash ora dobbiamo mettere una delle variabili ovviamente ogni variabile ha un suo compito se mettiamo f ci sarà la riparazione degli errori che sono eventualmente presenti nel disco sul disco se digitiamo r localizziamo i settori del disco che sono danneggiati e quindi recuperiamo le informazioni contenute all'interno con scan farà l'analisi degli errori presenti sul disco senza riavviare il computer a differenza di spot fix si avvierà l'analisi degli errori ma al riavvio del sistema quindi quando riavvierete il computer ci sarà l'analisi degli errori e di conseguenza se ci sarà qualche errore la correzione di questi errori dopo aver digitato la variabile basta fare invio e facendo invio si avvierà l'analisi però questo tutto se volete un controllo maggiore perché come vi ho detto basta anche solo andare nelle proprietà da strumenti fare il controllo degli errori e già questo è sufficiente perché è molto efficace come funzione ho spiegato comunque un altro metodo nel caso appunto dovesse servire e si può fare la stessa cosa anche col prompt con dei comandi nel caso non fosse abbastanza potete cercare su internet dei tool scaricabili tre fra i più famosi sono disk drill mini tool e onyx disk drill è disponibile sia per windows che mac mini tool disponibile è solo per windows mentre onyx è disponibile solo per mac questi sono programmi tool che funzionano allo stesso modo del controllo errori che mette a disposizione windows stesso oltretutto è gratuito ed è molto efficace sarebbe un po' complicato che dopo tutti questi passaggi dopo queste cose dopo già questo passaggio potreste riscontrare dei problemi ma non si sa mai nel caso internet vi mette a disposizione questi tool scaricabili come vi ho detto io ho fatto questo tutorial usando un computer windows con sistema operativo windows perché non ho un computer mac o comunque ubuntu potete servirvi dell'articolo sempre di salvatore aranzulla e dall'indice come potete vedere c'è come correggere errori hard disk su mac o su ubuntu nel caso questo mio tutorial vi sia stato d'aiuto condividetelo a tutti i vostri amici mettete un bel mi piace commentate nel caso aveste dei problemi dei dubbi qualsiasi cosa e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto attivate la campanellina degli avvisi così da rimanere aggiornati su tutti i miei tutorial o su tutti i miei video che escono ogni lunedì e ogni venerdì noi intanto ci vediamo con i prossimi video o magari con un prossimo tutorial alla prossima